Ciao a tutti ed eccoci qua nell'arena, anzi no, nell'area 4 livello 1 di The Planet Robobot e andiamo a vedere che cosa ci aspetta in questo livello 4 che siamo nel deserto che cos'è, attenzione, 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 aspiriamo e andiamo via via, oh frusta, mi sento un po' indianagionto e no, adesso non mi sento più indianagionto ma mi sento come qualcuno che è stato intrappolato dentro la bocca di questo essere il mondo e andiamo, avanti, tieni, tieni, ti frusto, ciao via via via, corre, via via, occhio a queste cose qui che non so che cosa sono e andiamo, sembrano frecce, cioè so che cosa sono ma, cosa assumi? oh, non mi sta a disossare, andiamo, 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 andiamo no, e allora ma allora via, ti frusterò, tieni, via via, ti frusto anche a te via, via, via super frusta chiacchiamo la stellina alla indianagionto e andiamo avanti ok, oh, cos'è questa cosa? andiamo, 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 andiamo ok, frustatemi, attenzione, perché questo sennò ci spiace, fanno via via, corre, 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 corre via, ciao e andiamo ancora avanti cosa sta facendo questo? andiamo, andiamo vi devo arrivare roba aiuto cos'è, cos'è, dov'è, dov'è abbassa lì vai sì e vai altra porta un altro passaggio e andiamo ok qui c'è un tubo chiuso troppo alto per saltare con quello andiamo di qua e via frusta tutti via ok ancora vai attenzione di questo passano vieni, vieni di frutto wow frustata di qua si può passare? niente allora rifariamo su attenzione cosa vuoi? cosa ci stai tirando? la passaggio oh di là c'è anche la porta ah vedi è quello là che dobbiamo aprire aspetta oh adesivo eccolo là c'è un cubo andiamo via ciao che cosa facciamo adesso? sediamo la miseria che bellezza sediamo tutto sedia circolari l'ame circolari via uh vale ok uh tu chi sei? sei sempre sei sempre tu andiamo adesso chi si fa? e ciao vai riteniamoci il nostro simpatico caricavatore la nostra batteria attenzione via via andiamo occhio a questo ecco vai uh no non ho segato quello là attenzione aspetta perché non ho segato una cosa intanto facciamo andare questa e ci prendiamo il cubo poi aspetta aspetta devo tornare di qua no la strada non c'è più no di qua eh 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 scappare un gioco aspetta aspetta ciao oh va un po' via così tanto per gradire per gradire per tagliare tutto andiamoci di nuovo ok vediamo un po' si è cambiato qualche cosa si si è cambiato che non c'è molta strada via sei stato frustato ma questo non sale più eh qui ci vuole qualcosa qua no pensavo ci fosse qualcosa invece non c'è niente quindi va bene abbiamo solo bloccato il tizio andiamo a prenderci da quel cubo andiamoci a prendere questa bella porta e andiamo guardate volevo colpire il buzz invece è venuto lui a colpirmi non è che c'è qualcosa qui niente c'è la stella andiamoci di sopra c'è qualcosa no e allora andiamo facciamo così eh ma volevo fare tipo scivolata mi ha fatto scivolare lui prima mi ha preso la vita ok finalmente tu hai guantato via via tutti ma caperù ma guarda come sono messo ah cosa c'è di qua è la porta magica con una stellina lo vedo messo male aspetta mi sembrava di essere aspetta ah lì c'è il cubo ok andiamo a a rompere il tutto qui e quindi vieni brande ok ah si viviamo aspetta il secondo cubo è qui bene bene eccoci andiamo su secondo cubo preso bisogna stare attenti e osservare tutto come super madre ci insegna no ho ripreso la stella ripreso la stella ok 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 ho quello che spara il dottore che spara facciamo così c'è qualche altra cosa di qua no ok andiamo potan mirapopta o nemmeno l'avvisivo ho scomato mi sa che non ho guardato tutti i lamprate vabbè vieni vai attenzione per molto attenzione questa viene in alto magari c'è qualcosa ah 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 come soffi dai miei occhi una bella stella viola oh la di su eh subito sali su sali su vieni vieni la di si volando la andiamo oh su 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 andiamo attenzione ok ok attenzione 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 mi sono confusa nel confondermi via via scatta 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 non salta salta qui mi serve il robot mi serve il robot aspetta vedi che qui c'è un passaggio non posso finire di darlo perché qua mi serve un passaggio no che mi faccio neanche mi serve la parte robotica allora vediamo proviamo a tornare in giro un attimino ecco cosa vedono i miei occhi qua il tubo restiamo a cercare meglio entriamo siamo pieni via via non si vuole niente qua ma va via siamo di risa facile via e si e va e come ah aspetta ecco così perfetto abbiamo aperto la stoda abbiamo pulito la nostra stoda per il kirby miniatura non robotico diamoci la saluta e vai tre cubi ti sfreccio pure io e vai livello 4 1 fatta salta 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 corta corta e vai un adesivo ex logo ex è raro icona metal knight e vai livello 1 ferito andiamo a livello 2 via entriamo mi sono trasformata in cubo andiamo andiamo attenzione al fuego andiamo andiamo vai vale c'ho il jet prendi 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 il cibo siamo bassi di sotto attenzione questo vento è veramente odioso ok attenzione questo tira da di qua ok andiamo come su aiuto nuvola tossica bene stella presa attenzione nuvola tossica andiamo e c'è il cubo il primo cubo trovato si vai 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 attenzione cosa fanno questi cosa fanno questi alè con come l'ho preso nuvola tossica aiuto 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 dai vai proseguiamo questo vento dà un po' noia ve lo dico frusta frustiamolo frustiamolo vai chi ci aspetta chi ci aspetta aiuto questo vento veramente noioso ok ok aiuto no male aiuto no spara ce l'ho fatta apposta perché ecco preferisco fare questo vieni vieni bravo tieni questa volta mi ha preso bene devo dire tieni prenditi aia mi stavo prendendo tieni vai sto prendendo le ciuglie spieghiamolo bene mi sento bene non so andiamo avanti ok aspettate crea una nuvola tossica per favore ah crea vai bravo così là bene vai ciao ciao ne va è stato bello cambio porta prendo porta e cambio zona volevo dire via saliamo saliamo occhio chi mi sta inseguendo non facciamo scherzi vai muore qui mi sa che mi serve il gigante bene vai cosa c'è qui nuvola tossica eccoci bravo oh no fermi fermi devo prenderla al volo perché qui c'è dell'aria che tira ora che faccio il gran il gig il gran premio cosa faccio oh ce l'ho fatta prendere la porta ok nuvola tossica si che nuvola tossica oh 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 cubo presso ok cosa c'è questo cosa c'è il robot è là a noi il robot e andiamo ora provo a tornare anche dietro per dire qua dentro perché era qua giù se ne sbaglio no si era qua e non si può spostare ok ok andiamo di qua allora ho deciso che va di qua aspetta 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 magari così conciata e infatti era così conciato ho preso l'adesivo e vai dove ci porta aiuto cosa c'è qua aspetta c'è una carotina che la prendo che fa sempre comodo occhio la tossicità di queste nuvole ma dove sto andando non lo so ma c'è uno scrigno lo voglio prendere l'adesivo raro vieni beccati questo dove stiamo andando via attenzione attenzione vedo nuvole tossiche dappertutto attenzione aspetta qui qui c'è qualche cosa ok aspetta un attimo aspetta un attimo qua cosa c'è c'è qualcosa forse no che c'è la stella normale che con il robot non si sente il vento ma non so dove sarà il terzo cubo no ho sbagliato salto no questo è quello finale dov'è il terzo cubo fermi tutti vedi che questo mi serve si ci sono indietro una cippa perché indietro non si torna ok ecco allora usiamo qui c'è una serie di blocchi dove sarà il terzo cubo? no, tieni, tieni eh, non volevo far così penso di volare invece non volo allora ecco, sì, volo però dopo un po' mi si blocca eh, oh, vedi oh, l'ho capito un calma ok, ci so eh, con calma si arriva dappettura basta trovare il punto giusto infatti mi sembrava strano ecco lì non si basso questo bene ah, così ah, elicottero ecco qui il terzo cubo non era tanto difficile basta prenderci il via ok, possiamo arrivare tranquillamente così senza così ormai e poi ho finito anche il secondo livello con tre cubi benissimo andiamo a prenderci una nuvola oh, massimo yes oh, la la uno livello uno balletto mi kirby benissimo one up mamma mia e poi Logore e poi Uoda di Aiutante Manga e poi Cavaliere Tridente Uuu Adesivo Raro Pigmenta Kirby Manga e via questa è stata una bella intuetta di adesivi benissimo con questi primi due livelli del mondo 4 io vi saluto spero che vi sia piaciuto il video se è così stato mi raccomando mettete un mi piace commentate e uno ciao a tutti e al prossimo video e al prossimo video